Continua il dibattito sulla costruzione della scala mobile lungo la storica scalinata Silvio Pellico, che collega via Cavour a via Crispi. Molte perplessità sono state sollevate dal presidente regionale di Italia Nostra, Leandro Ianni, il quale chiede che vengano effettuate delle verifiche ben approfondite. Questo perché, secondo l'esponente dell'Associazione Culturale, la scalinata è sicuramente uno dei simboli architettonici e artistici della nostra città, e la realizzazione di una scala mobile per facilitare la salita potrebbe danneggiare la struttura e deturpare lo stato dei luoghi. Leandro Ianni ha posto l'accento anche sui costi di gestione di una scala mobile, aggiungendo inoltre che la scalinata Silvio Pellico è stata, dire sempre di Italia Nostra, già offesa con un sistema di illuminazione impropri e anche con la piantumazione di alberi di Magnolia. Sulla vicenda, l'assessore comunale Marcello Frangiamona ha spiegato che la scala mobile sarà totalmente interrata per garantire un impatto ambientale nullo. Gli accessi saranno effettuati dai portoncini che si trovano dal lato di via Cavour, mentre dalla parte di via Crispi verrà realizzata una struttura per garantire accessi e uscite. In tutto questo verranno valutati, sempre secondo quanto affermato dal rappresentante dell'aggiunta Gambino, i dettagli per garantire una manutenzione continua. Riguardo all'utilità della scala mobile, l'assessore Frangiamona ha specificato che l'opera va valutata nel complesso del lavoro di rivalutazione del centro storico, con un pensiero sia per le persone a mobilità ridotta che ai visitatori, quali, arrivando dalla stazione ferroviaria e da quella degli autobus, potranno accedere più rapidamente alla zona nevralgica della città.